che non ha una specificazione precisa, comunque per identificare un minimo dove andiamo a parare lui si chiama Massimo Ruberti, abbiamo già avuto il piacere di avere l'ospite qui da noi lui fa una cosa molto particolare, nella clip che stiamo per vedere musica dal vivo le immagini di un vecchio film, una cosa davvero particolare e questa cosa avverrà tra l'altro, è già avvenuto, ma avverrà tra due giorni al cantiere San Bernardo di Pisa dove Massimo Ruberti sonorizzerà il film muto di animazione del lontano 1926 dal titolo Le avventure del principe Ahmed è un live elettronico che si inserisce nell'ambito della rassegna Black Ash Film Sound dell'etichetta livornese Black Ash Records, promotrice di musica elettronica sperimentale allora noi abbiamo il promo di questo lavoro dal vivo, lo vediamo subito così capite dove andiamo a parare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questo era il promo del lavoro live di Massimo Ruberti, andiamo a vedere un pezzettino da uno strato proprio del spettacolo registrato in un locale di Livorno e così capite veramente come sta smacchinando Massimo Ruberti live davanti alle immagini del film muto del 1926 grazie a tutti 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 Grazie a tutti.